Marco Mina di Omron Electronics è presente al Create Networking Day per parlare di robomobili collaborativi. Cosa si tratta? Si tratta di robomobili, appunto, quindi veicoli autonomi, intelligenti, in grado di muoversi autonomamente nell'ambiente in cui vanno a operare senza bisogno di infrastrutture montate precedentemente, quindi sono in grado di trovarsi la strada, di calcolarsi i percorsi in maniera completamente autonoma. Possono essere utilizzati in flotte collaborative fino a 100 unità, potendo quindi lavorare in cooperazione sia con le persone che con altre macchine. Omron Electronics fa parte del Network Create, quale valore aggiunto trova in questa partecipazione? Grazie a questa partecipazione abbiamo la possibilità di metterci in contatto e confrontarci con altre realtà, anche molto diverse dalla nostra, ma che messe tutte insieme ci permettono di avere una visione più a 360 gradi del mercato e delle soluzioni offerte dal mercato. Di conseguenza, grazie a questa partecipazione, possiamo anche quando approcciamo delle aziende avere una visione più all'ampio spettro per cercare non solo di fornire del materiale o delle soluzioni, ma per vedere anche la tendenza del mercato e delle aziende dove stanno andando fino a questo momento.